Tommaso Cancellotti è il nuovo terzino destro del Teramo, il colpo chiuso nella giornata di ieri dalla dirigenza biancorossa il decimo della campagna estiva del diavolo. Arriva dalla cittadella a titolo definitivo e firmerà un contratto di due anni andando a rinforzare la linea difensiva a disposizione di Bruno Tedino che ieri ha visto l'arrivo ufficiale di un altro attaccante, Lorenzo Pinzauti. Anche per l'ex Ponte d'Era un contratto fino al 2021. Per quanto riguarda Cancellotti un affare davvero di alto profilo per la squadra biancorossa, l'esterno cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Nelle passate stagioni ha avuto esperienze con la Provercelli, la Juve Stabia, il Gubbio e appunto quel cittadella da cui si è appena separato per tornare in Lega Pro e darsi una nuova opportunità in carriera. La ricerca adesso si sposterà su due interni di centrocampo, anche considerando il fatto che nelle intenzioni dell'allenatore Carlo Ilari potrebbe giocare nel ruolo più delicato, quello a ridosso delle due punte. Che linea teorica in questo momento ci sono, senza considerare i reduci delle passate stagioni. Da lunedì a Celano infatti la prima linea dovrebbe essere già completamente nuova. Intanto sempre per la mediana, tra qualche ora Simone Santoro dovrebbe raggiungere Tedino in Abruzzo. Dopo le mancate iscrizioni in Serie B e C infatti, da martedì i tesserati di quel club che non parteciperanno ai campionati sono svincolati. Tranne però quelli del Palermo a causa dell'ennesimo ricorso, senza però speranze di buona riuscita, della società Rosa Nero. Dunque bisognerà aspettare ancora un po' prima di poter avere il centrocampista che nelle intenzioni può fare il cambio del rigone oppure piazzarsi su uno dei due lati della mediana. Prestissimo invece ci sarà la composizione dei gironi di Serie C col diavolo che sembra indirizzato verso quello meridionale. Al sud inevitabilmente la favorita d'obbligo ai nastri di partenza sarà il Bari di Aurelio De Laurentiis, poi Ternana, Catanzaro, Vellino, Regina. Ma le ambizioni del diavolo, soprattutto considerando l'impegno economico di Franco Iachini, non sembrano essere quelle di un torneo visto dalle retrovie. Gli investimenti sono stati tanti e saranno ancora cospicui per il futuro, per un campionato che non sarà di sicuro un remake delle stagioni travagliate che il Teramo vuole mettersi definitivamente alle spalle. Grazie a tutti.